Per il ciclo Hollywood Thriller Elisabeth, io sono il dottor Conrad Sono uno psichiatra Ciao papà Tu vuoi quello che vogliono loro Papà Quello che vuole chi? Lei ha un numero di sei cifre Chiuso in quella sua mente restorta Ho tua figlia È un codice, è un posto Che cos'è? Io ti vedo No! Non una parola Parola, parola, parola Don't say a word Questa sera alle 21 Con Iris